E ragazzi, come va? Io sono Fieriniki E io sono Stef, che stai giochiamo a Gmod? E oggi siamo qui con un nuovissimo episodio del Propant in compagnia di Espy Giochi e Tearless Raptor Esattamente, hashtag Tearless Raptor nei commenti per festeggiare il fatto che finalmente registriamo un video anche con lui Era da diversi mesi che volevamo registrare anche con lui e finalmente siamo riusciti a riorganizzarci Abbiamo scelto una mappa di Propant, come potete vedere, super carina È una villetta con un giardino davvero gigantesco, c'è la casetta sull'albero, c'è la serra, c'è la piscina C'è un sacco di roba, ma soprattutto ci sono fin troppi nascondigli È davvero, forse, esagerato a livello di nascondigli Anche fin troppi Ne vedrete nelle belle, ovviamente passate nei link in descrizione dei canali sia di Tearless che di Espy Ed iniziamo subito con il video Ciao, ciao Non puoi entrare Correte via Non ho preso niente Però almeno una scrittina sulla porta a tirare e spingere ce la potevano mettere Fere è nella zona delle bici, quindi state attenti Se siete in quella zona scappate Ok, allora siete qua No, se tu mi vedi sei qua Sei qui in zona per forza Ok C'è qualcuno che sta scappando a me C'è qualcuno che... Chi è questo? No! No, non mi hai visto Perché? Scappa a tirle No, non mi potrei mai avere Sei in un posto fantastico Stef, sei in un posto bellissimo Sono un pezzo d'arredamento aggiunto Aspettate che devo bloccarmi Espy, non ti voglio Nella location dove sono Non ci sta a fare nulla una bibita Quindi mi roviniresti la location Quindi Espy è una bibita Sì, Espy è una bibita In piscina Vai a cazzo di... Sì, esatto Espy, vai in piscina Aspetta Non so dove sei, Stef Ah sì? Ti vengo a prendere Siete dentro o fuori casa? Eh, boh, non saprei Entrambi Entrambi? Bravo, Tearless, bravo Cosa vuol dire? Che risposta è? Credo che Espy sia fuori casa E io dentro casa O il contrario O il contrario Fereniki, ciao Allora, ma dov'è? Guarda fuori dalla finestra Fereniki Ciao L'hai trovato? Ciao Sì, ma non lo posso colpire da qui Dai, facciamo due chiacchiere No, Espy Allora, se mi dici dove è Stef Ti lascio in vita Ma lo sto cercando anch'io Ma come? Dai, Espy Non serve per nulla Accidenti a te Vi do un indizio a entrambi Così siete in due a cercarmi Ok, arrivo È un posto sporco Ma siete alleati addirittura? Eh, no No Non ti stiamo cercando insieme Ah, ok Sei sto coso? Assolutamente no Carta igienica Ok No, meno male, Espy Perché alleati Mi sembra eccessivo Seguimi Dove è finito, Espy? Non lo so Un posto sporco Un posto sporco Dai, dai Vabbè, non lo vedo più È troppo piccolo Ok che è una villa un po' sporca Un po' trasandata Però i posti sporchi, sporchi Sono pochi, secondo me Mi ho dato un bel indizio Il sangue è freddo Il sangue è freddo, Tearless Io sto morendo, giuro Oddio Ho sentito Espy, sei tu quello Che poi Espy sta continuando a dare una mano a Frinichi Io non ho ben capito perché esattamente Perché ho fatto amicizia con lei Da quando ci siamo visti alla finestra Traditore È stato amore proprio Un conto era cercarmi tu da solo Oh cavolo, scusa Espy Ho visto qualcosa Ok, non ti preoccupare E di riflesso ti ho colpito Vedi cosa vuol dire fare alleanza con lei Un altro indizio a sporco C'è dell'acqua E quindi è un bagno E più di così davvero non posso dire Potrebbero essere delle infiltrazioni in cantina Sentite Irless Cantina ha detto Ma non c'è dell'acqua Un minuto tondo cari Un minuto tondo Che poi Irless Io non capisco Come sia possibile Che quando sono venuti Hanno dato più probabile Che fossi un butter Piuttosto che quello che sono io Io non stavo colpendo il butter È stata una scena fantastica Io non stavo colpendo il butter Ma ripetate Ma era Certo gli ha dato un indizio Cioè Steffa era nel bagno lì sopra Davvero Esatto Sì Però non avete capito che oggetto sono Perché sono piccolino E quindi Anche se lo sapete Che è di oggetti piccoli E perché vale E vale anche diventare oggetti piccoli Poi non so ne che dove è il bagno Io sta a casa Questo 20 secondi Si è persa Addio Grazie Bravo Espy Espy tu non hai vinto Espy sono un traditore Non hai vinto niente Non è vero Ti dispiace Io voglio portare le bibite a tutti Bene Dove ci porti di bello? Non lo so Bene Noi ti seguiamo Noi ti seguiamo come fedeli compagni Allora Chiudete le porte Dirle se io ti dico Sono sicuro che ci porterà da Espy Non mi piace Non ti piace Deciditi O ti piace o non ti piace Sì mi piace Dobbiamo salire le scale Sì qua Quanto scomodo Uno due E vabbè scomodo Però fatele Scusa Espy non ci sono scale Sono armadietti Sì Cosa Come sta a confonderti fra scale e armadietti È bellino Ci mettiamo qui Tutti qua Sì 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 Buongiorno Semplice ma efficace Ok Allora Così mi sembro Ciao Plausibile Sì 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 Perfetto perfetto Dobbiamo darle un indizio ad Espy O non glielo diamo Dovete dare qualche indizio No per ora no Facciamolo cercare un po' Facciamolo cercare un po' Dai Dato che ci ha tradito Lo torturiamo un pochino A me avete fatto cercare un sacco Quando chiedi perdono Ti diamo il primo indizio Voi non volevate dire dove eravate E quindi io sono passato dalla parte di Ferenichi Mi pare giusto Non funziona così Sì funziona E non è neanche servito a nulla Perché neanche ti aveva visto come me Esatto Era pure inutile Quindi proprio un pessimo aiutante Non serve a niente Dimmi 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 Come siete Non ci provate Lasciamo che muoia Mi sa che ci sente Chi è che ho urlato? Eh lo so Sono nella sua stessa stanza purtroppo Cavolo Non ci ho pensato Siamo nella cantina Da C'è così La cantina è gigantesca A parte che non so Poi meno dove sia la cantina Quindi tranquilli Infatti io ho fiducia sul fatto che lui non trovi la cantina Sto sperando Non la troverei mai Ci sono due cantine Ce n'è una Ma come? E quella non è un semi interrato Non l'avevo vista l'altra Basta allora io rinuncio Io conosco soltanto una di queste cantine Eh siamo nella seconda cantina Espy Ma come la seconda cantina? Ti devo dare anche la mappa su dove si trova Più indizi voi Ma siete veramente in cantina o no? E quale cantina? Siamo in cantina Nell'altra cantina Quella che tu non hai visitato Sembra qualcosa di comica Se ti devo dire anche come arrivarci Ti faccio la GPS Potrebbe essere utile Dimmi dai Allora Dalla zona dove si spawna Dove ci sono tutti i pannetti Devi andare un po' a sinistra C'è una piccola porta Lì entri E c'è la cantina Si è già perso Se non lo trovi anche così Non so che nienti Oh bravo bravo Ce l'hai fatta Ok Ok ce l'ha fatta Ok questo è un garage Non è una cantina Dov'è la cantina? Eh vabbè Sei un po' Ciao Espy Precisino Ciao Espy Che fai? Stai e scendi? Ti stai divertendo Stai e scendere? Gente ma questa non è Questa non è una cantina Mi avete imbrugnato Espy cerca dai Su cercaci Ma deve stare là A fare i dettagli Io voglio Un rimborso Non è giusto Beh Sapete cosa? Devo sparare alle bombole Oh oh Fere addio Tutto ok? Fere si viva? Sì Ok perfetto Mi hai guardato intensamente Negli occhi Mi sono sperimentato un sacco Ho avuto paurissima Allora non so Io posso provare a fare Tipo così Ah Così Cos'ha fatto? La doppia Così all'improvviso Ha fatto una granata Scusatemi Mi ha scrappato il dito Io non ci credo Espy Cioè non abbiamo usato Le granate Io non le ho usate Con te scusa eh Mi ha scappato il dito E' già la seconda volta Che vi tradisce Io non vorrei dire Ma è già la seconda volta No no Cosa ho fatto scusami Ci dobbiamo coalizzare Contro di lui Questa cosa non va bene No cioè non va bene Io sono morto Mi ucciso prima Tierless è morto Manco solo io Non hai capito Che hai preso a tutti e due No Hai preso sia a me Che a Tierless Io ero incastrato Non potevo più scappare Purtroppo Prima non capisce Come arrivare nei posti Poi manco si accorge Di chi amazza Non lo so Se dobbiamo giocare Io pensavo che Che foste morti voi due Steph e Ferinichi Ah no 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 Manco solo io Un po' bello il tuo Vero? Sì bello Però manca soltanto Steph Esatto Esatto Bel posto E hai un minuto e quaranta Vero? È carino è carino Poi è al buio Quindi diventa anche Un po' più difficile Cosa? Abbiamo detto niente Nascondigli Eeeh Allora è al buio Ma non è sotto qualcosa Esatto Quindi se giri meglio Lo vedi Abbiamo detto anche Tante altre cose Espi ma tu non le hai rispettate Quindi Io ho rispettato tutto Sì sì Proprio Non hai detto mai Non hai detto non granate Era sottinteso Era sottinteso Era sottinteso Era mai sottinteso Lo era Abbiamo detto anche Non tradimenti Per questo Comunque Voglio dirti una cosa Tirless Espi è famoso Per avere problemi Di vista Cioè Lui passa davanti a un prop Anche quarantacinque volte E continua a non capire Sto notando Sto notando Puoi star tranquillo È già passato almeno sei volte Su di me E ancora nulla Sì 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 Quindi Continuerà così per un altro minuto Vincerò Lì salterò intorno E lui fa Ma dov'eri E fa Ah sì Ok Sto iniziando a sparare Guardate A caso A caso Sparare Per sicurezza sparo Si è offeso Grande Era un asse di legno Era un asse di legno Espi è una barzelletta Non ero l'asse di legno Tirless Era dietro l'asse di legno Io pensavo Io pensavo fossi là Anche io Avete prende la scatoletta Che ero fin da subito Sì Sotto l'asse di legno E vabbè E poi ditti a me Era troppo Però dai Era troppo Scusatemi Adesso qua Sei uno scandalo Uno è bravo a nascondersi E lo dovete insultare Così Funziona così Uno è bravo a imbrogliare Ah tu quello caro Non io C'è un libro Un secchiello E un cestino Ma non è vero Te lo stai inventando Che giocano con lo scivolo Hai le lucidazioni È vero È così bello Wow Signore Steph Ci facci giocare un'ultima volta Steph Vieni anche tu a giocare con noi Non so chi siete Dovete dirmi che oggetto siete Steph Vieni anche tu a giocare con noi Eccomi dai Sto giocando Andiamo in fila raga Dai Uno dopo l'altro Vai Tutti giù Uno due tre Whee Whee Ho paura delle altezze No è colpa di essi Questa cosa c'era Posso venire O non avete ancora finito Oddio Sante cosa stai diventando Sollevamento pesi Ma dai ma se mi volete Dai più spoiler Su dove siete Ok scusami Scusaci Se fosse Ah Oh mio dio Scappate Scappate Un'altra chance Perché lo avete seguito Perché lo avete seguito Spiegatemi Lo sapete che non è buono Nascondersi Ogni tanto bisogna dargli una possibilità Allora posso sapere Chi è entrato in questa stanza Che ho appena aperto Quale stanza Nessuno Ok Nessuno Vai via Espi Se vuoi uscire esci adesso Altrimenti sei morto Vai esci via Vai veloce Ti do dieci secondi Espi Nove Otto Non sei qui dentro Non sei qui dentro Sei Non è dentro Non è dentro Perché di fatto Quattro Hola È Tirless Ciao Cosa state Corro Oh 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 No no non correrò Continuando a evitarlo Non riesco Ciao Aspetta devo aprire l'altra anta Scusami No Aspetta che ho chiuso Ok Ok No vabbè No Era diventato il minigioco Colpiscitile Era impegnativo Allora un altro invece è rimasto in questa stanza E io credo che sia Espi Perché secondo me Fereniche è un po' più furba di così Io sto scappata Allora Cioè l'hai già ucciso Quasi Parato il volante Corri Espi Corri Espi Si aprono lentamente Allora vediamo cosa cerchi di fare Guarda io neanche sparo Neanche sparo Espi Allora si apre di qua Sì Esatto Si diventa un istinto No si può diventare Non puoi che me Esatto Corri Ok Guarda lo struttone di Cespugli Dov'è finito? Dai che no C'hai scappato No ti Cespugli Tu infrangi le regole Anch'io infrango le regole Ma sei stato tu il primo A infrangerle Esatto Non è vero Espi sei stato tu il primo Allora No io non ho fatto niente Io ho usato una granata Quando non era specificato Di non usare granate E hai tradito il tuo tipo Bugiardo che è Allora Ma perché Ma scusate Ma quando Fereniche Mi ha lanciato Quello sguardo ammaliante Ah mi è mancato Con che fortuna Con che fortuna Espi Non sono nel Cespuglio di Hortensi Non ti preoccupare Allora Sproveduto Allora la banda comunque Scusami Muori Muori Mi avevi rotto le scatole Mi hai fatto perdere Dieci minuti E qui si fa pure prendere L'ho riempito di buchi Allora Mi ha fatto perdere Un sacco di tempo No Espi È invidibile Vabbè ma Se prima abbiamo detto su A Steph Adesso a Fereniche Dobbiamo bannarlo Direttamente No perché Allora Mi avete Ucciso con una granata E non si poteva fare Almeno datemi un indizio Mentre Steph si è nascosto dietro quella cosa Ed è riuscito a vincere Solo in quel modo Quindi adesso tocca a me Espi dammi indizi E' vero Espi non ci provare Un indizio E' all'interno ma all'esterno E ma mi ha mangiato prima Attraverso la finestra Non posso tradirla Primo Cioè piano terra o primo piano Eh no E' all'interno ma all'esterno Ok Diciamo che il pollice verde Ah Espi ti devi stare zitto Ok Ok Forse ho capito Forse ho capito Ma non c'è nulla di verde qua Allora Non ha capito nulla Non è forse L'edificio Il pollice verde Mi ha capito che sei verde Capito Non ho granate Ho un bazooka No non valgono però ste cose Allora Non valgono cose E infatti L'abbiamo subito detto Che non valgono le granate Stef E' un bocca al lupo Fere Tre secondi No Chiamare uno speleologo Esci fuori Ero qui dietro Ero intruvabile E tu avevi paura a dirmi dov'eri Sì Perché tu controlli sempre dietro i posti Mi freghi Sì ma era impossibile da guardare a livello di texture Potevi stare tranquillissima No C'è il modo È difficile però Dai Ce l'ho fatta Oh mio dio Fere come hai fatto Perché sei sentata sopra di me Non è giusto Stef Prova Allora Aspetta SPC serve spostare un oggetto E usarlo come scala Quindi vuol dire che io Cioè non sono neanche Passato vicino a voi Ma neanche per sbaglio Non avete detto niente Esatto Ok allora aspettate che devo togliere la sedia Eh Ok L'avevo acchiappata un attimo Hai detto sedia però Sì vabbè 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 sedia ce n'è ovunque Allora siamo all'ultimo piano Tearless Primo indizio Cos'è questo coso? Oh posso accendere e spegnere le luci Vedi che è lui che spegne le luci È lui guarda Non è vero L'ho appena scoperto Sì certo Dicono tutti così Se si aprono queste porte corrette Corrette Proprio Ma siamo troppo grossi Stef Solo voi Guardate che snello che sono io Maledetto maledetto Non è che voglio essere una statuina come te Sono in perfetta forma E parla Io davvero non Oh no 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 Ragazzi Correte via Oh no Correte Dico gioco Dico gioco Ok Cambio Devo prendere la statuina No 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 Aiuto Ho visto la scatola Ho visto la scatola Ok Ok Non so dove scappare Accidentemente Sono troppo grosso Sono troppo grosso No vi ho persi C'è il genio Sono troppo grosso Cosa ho lanciato? No! Ciao! Tutti quanti hanno usato le granate ormai, Thomas, puoi farlo. Ciao! Ciao, Dyrles! Non riesco a colpirti mai. Non riesco a colpirti. Non riesco a colpirti! Non so più che strada fare. Di qui, di qui. Lanciati! No, mi sono incastrato, no, mi sono incastrato. Non riesco a colpirti. Non ti colpisco mai. Di qui, scendi. Ti vengo a prendere. Continua a correre. Ti seguo. Scendi, ferro e scappa. Guarda! Corri! Dai! Corri, Ferro! Prendilo, prendilo! Ma cavolo, ti volevo trovare e mi hai portato, capito, dalla stasera. Scusami, Ferro! Aiuto! 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 Dove... Dyrles, Dyrles, è confuso l'arma. Eh, lo so. Aiuto! Si stacca nello su! Su, Ferro! Ferro! No, ma porca miseria. Oh, non riesco a colpire nessuno, io. Ok, ok. Non la colpisco mai! Basta questo zigzag! Ok. Oh, sì! Oh, no! Mi sono decattrato! Oh, yes! Che caduta che hai fatto, tra l'altro. Mi spiace, buon uomo. Ma dai! Ferro, attento! Ah, no! Bellissimo! Perché stavano in giro come scatola? Sì, sai, la classica scatola che va in giro. Almeno ti potevi trasformare in un altro oggetto. Non c'è nulla in quell'accento in giardino! Direi che ci possiamo fermare così per questo video. È stato davvero divertentissimo fare questo propant in compagnia. Secondo me questa modalità è sempre divertente. È la migliore, forse. Potrebbe, potresti farla in una stanzina minuscola che ti divertirebbe lo stesso. Che ti divertirebbe lo stesso, esatto. È davvero, davvero incredibile. È stata fantastica, la mappa è molto bella, quindi nel sondaggio oggi voglio proprio sapere se avete preferito la mappa della scorsa volta o questa, perché sono proprio curioso. Ma vi dico già che le prossime saranno ancora più belle, perché stiamo iniziando a prepararle noi a mano, ovvero a prendere delle mappe normali e metterci gli oggetti, ed uscirà un qualcosa di davvero, davvero epico. Ricordatevi di passare comunque nei canali di Tearless e di Espy e ci fermiamo così. Ragazzi, se non è così, lasciateci un like. E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerarvi di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao!